Questo è un tema importante sia per il nostro Ministro degli Esteri Luigi Di Maio che per il Ministro dell'Economia, insomma un tema forte che è la sfida, soprattutto post-Covid, di un Paese che ha un nuovo piano per le esportazioni, che ci racconterà il Ministro e che ha già visto questo territorio interessato con grandi progetti e che guarda un futuro anche con risorse del Recovery Fund e con la possibilità di rilanciare, soprattutto nelle riconversioni, quelle grandi aziende, ma grandi per il prestigio, non solo per la dimensione di questo territorio che fanno grande l'Italia.